gentili telespettatori buona giornata che cosa compra Giorgia Meloni in edicola ho trovato un un articolo che raccontava proprio di cosa compra la Meloni dal giornalaio è mai un quotidiano ma paga sempre in contanti ma è importante quindi che cosa compra è l'edicolante di fiducia svelare le abitudini della sua cliente a un giorno da pecora su Rai 1 rivelando ad esempio che Meloni non avrebbe mai comprato un quotidiano almeno da lei non ne ha comprato nemmeno una volta spiegato veniva da me solo per comprare delle cose per la per sua figlia e se magari la premier preferisce le versioni digitali dei quotidiani per le riviste pare faccia un'eccezione ma attenzione guardate che a palazzo chigi ci saranno disponibili ogni giorno per la presidente del consiglio tutti i quotidiani possibili e immaginabili anche il quotidiano cippalippa sopra la montagna ecco per esempio però ovviamente è molto più facile guardare i quotidiani in internet che mettersi lì a sfogliare i paginoni cartacei quindi questo non è per niente un una cosa strana ecco tra le po tra le poche che si sarebbe concessa finora ci sono vanity fair e qualche volta chi inevitabile la domanda su che tipo di pagamento preferisce Meloni dopo le polemiche sui pagamenti elettronici e sul tema Meloni si sarebbe mantenuta coerente pagava sempre solo cash beh ma insomma andare a comprare il giornale col bancomat è un po curioso l'edicola di fiducia della leader di fratelli italia aveva ovviamente anche l'autobiografia io sono giorgia che già prima della vittoria alle politiche aveva raccolto un discreto successo in libreria non è andata diversamente che nell'edicola il libro è andato benissimo dice l'edicolante ne ho vendute 40 copie e lei ne ha firmate anche tre per un cliente che aveva espresso il desiderio di averle autografate per poterle legalare è stata gentilissima beh insomma è così vi ho raccontato un simpatico particolare grazie a tutti e arrivederci a presto